Un buongiorno a tutti, bentornati, episodio numero 9 del corso di SQL, quest'oggi parliamo di AND, OR e NOT, andremo a vedere la sintassi di AND, OR e NOT e poi li combineremo. A cosa servono? Servono per creare condizioni più specifiche, ok? Quindi abbiamo visto come fare una condizione, ma in questo caso ne facciamo solo una. Con questi tre operatori che andiamo a vedere, possiamo andare a rendere le nostre condizioni, dicevo, più specifiche, più piccanti e andare a prendere dati in modo mirato. Prima di fare ciò, vorrei però aggiungere altri dati in tabella. In questo caso però andiamo a inserire dei nuovi dipendenti, quindi dipendenti con mansione differente e con stipendi diversi e vari dati di assunzione, va bene? Quindi stacco un attimo, poi vi faccio vedere cosa aggiungiamo. Ok, quindi siamo tornati, ho aggiunto dei dipendenti, sono pronto a far girare la query, abbiamo aggiunto tre magazziniere, due commerciali, stipendi vari, assunzione, non c'è niente di sensato. Per esempio qua c'è da modificare il numero di telefono, siamo pronti e aggiungiamoli. Ok, tutto eseguito, andiamo a vedere, facciamo search, vedete che qua ci sono tutti i vari nostri dipendenti che abbiamo aggiunto e adesso abbiamo una bella varietà che possiamo andare a tirar fuori. Quindi chiudiamo qui, torniamo sulla query e cominciamo con end. Allora, riprendendo qua, end ci serve per tirare fuori una condizione più specifica, quindi noi abbiamo fatto la volta scorsa where stipendio maggiore di 1400, ma adesso ne magari vorremmo sapere anche in base alla mansione. Quindi vorremmo tirare fuori esclusivamente gli impiegati con uno stipendio superiore a qualcosa. Proviamo a farlo, quindi vogliamo gli impiegati con uno stipendio superiore a 1500. Se prima facevamo where mansione uguale impiegato, adesso grazie a end possiamo andare a fare end stipendio maggiore di 1500. Andiamola a fare, quindi where stipendio maggiore o uguale, facciamo maggiore o uguale di 1500 and un'altra condizione mansione uguale impiegato. Andiamo a vedere, sistemiamo, giustamente mi dà errore perché ho tralasciato qua il nome della tabella, perdonatemi, sono fatto prendere dalle emozioni di farvi vedere le cose. Prendiamo tutto, select from dipendenti, where stipendio maggiore o uguale di 1500, mansione impiegato, run, eccoci qua. Dunque come potete vedere ci ha tirato fuori due record, quindi le righe si chiamano anche record, due record che sono rispettivamente Luca Rossi e Anna Neri, perché vogliamo sopra i 1500, vero, maggiore o uguale 1500, assolutamente vero, e mansione impiegato. Tutti gli altri sopra i 1500, vediamo un po', 1700 commerciale, 1800 commerciale, tutti gli altri invece non soddisfano il criterio anche solo dello stipendio, mentre invece chi soddisfava il Marco Verdi, la mansione come impiegato, non ha un stipendio superiore o uguale a 1500. Quindi come potete vedere con AND possiamo andare a combinare più condizioni e appunto, dicevo, essere più specifici nella nostra ricerca e questo è fondamentale. Andiamo a vedere OR, non cambia niente, non cambia niente, però anziché trovarci ciò che rispetta questo e questo, ci trova semplicemente, vi faccio vedere, mansione impiegato OR mansione commerciale, quindi vogliamo sapere chi lavora in ufficio rispetto a chi lavora poi in magazzino. Andiamo a vedere, abbiamo 5 record, ok, ed effettivamente qua abbiamo 2 commerciali e 3 impiegati, ci ha lasciato fuori i 3 magazzinieri. In questo caso, vedete, ci ha tirato fuori o commerciale o impiegato, in questo caso ci sono entrambi, proviamo a fare invece così, scriviamo marketing che non c'è, però vedete che ci tira fuori i commerciali. Questo perché non importa che sia, se invece noi facciamo così, AND, non lo troverà mai perché non possiamo avere mansione in due modi diversi, ma avete capito il senso? Perché OR ci dice, a riferenza di AND, dove dobbiamo rispettare questa condizione e questa condizione, qua dobbiamo semplicemente rispettare o questa o questa. Rimettiamo un attimo impiegato, impiegato, facciamo run e andiamo a vedere un attimo. Allora, Luca Rossi, Marco Verdi e Anna Neri, sono commerciali? Commerciale? No, ma sono almeno impiegati? Sì, perfetto, quindi li prendi. Antonio e Maria, è commerciale? No, è un magazziniere. È impiegato? No, è magazziniere, allora li lasci fuori. Lucia e Ilaria, sono commerciali? Sì, allora li prendi. Ok, quindi OR è o uno o l'altro, basta che una condizione sia a posto, a me va bene lo stesso. Andiamo a vedere NOT, NOT invece si mette qua davanti e ci dice che vuole tutto ciò che non rientra in questa condizione. Quindi se io scrivo WHERE NOT mansione uguale commerciale è poco intuitivo, ma come potete vedere ci restituisce tutti tranne i commerciali, ci restituisce impiegati e magazzinieri. Questo perché mettere il NOT davanti va a negare la condizione. Per farvi un esempio banale, se noi vogliamo prendere solo, per esempio, le donne, qua non ce l'abbiamo perché non abbiamo il genere, ok? E lui non può saperlo in base al nome. Quindi se avessimo il genere, poniamo caso che voi volete prendere tutte le vostre conoscenze che non sono donne, NOT genere uguale donna, ad esempio, o femmina se è femmina maschio, ok? Quindi mi dai tutte quelle persone che non sono femmina, al contrario, se volete trovare tutte le femmine e non i maschi, mi dai tutte quelle persone che non sono maschio, ok? Questo è il modo più banale che ho per spiegarvelo, senza avere un esempio puramente economico in ballo. Quindi, questi sono AND, OR e NOT. Come li combiniamo però? Attenzione, proviamo a combinarli. Proviamo a combinarli. Vogliamo avere delle grandi, vogliamo avere delle macro condizioni, ok? Quando vogliamo avere più condizioni, in questo caso magari un AND, poi un OR e un altro AND, facciamo così. Perfetto. Quindi, o questa macro condizione o quell'altra. Quindi mi trovi, vogliamo tutti gli impiegati che guadagnano sopra i 1.500 e tutti i magazzinieri che guadagnano sopra i 1.300, va bene? O che guadagnano sopra, quindi, va bene? Quindi dobbiamo fare WHERE mansione uguale impiegato AND stipendio maggiore, facciamo maggiore, semplicemente basta, di 1.500, ok? In questo caso ci darà semplicemente Anna Neri con 1.700, impiegato da 1.700. oppure vogliamo, in questo caso, noi in verità vogliamo tutti, quindi sarebbe un E, ma qua è un OR, cioè perché noi vogliamo tutti gli impiegati che prendono TOT e tutti i commerciali che prendono TOT, o i magazzinieri che prendono TOT. Ma come condizione, visto che non la fa su tutti insieme, ma la fa su ognuno, deve andare a dire, ok, tu sei un impiegato che prende sopra i 1.500? 1.500? Sì, no, in realtà no. Tu sei un impiegato che prende sopra i 1.500? No. Tu sei un impiegato che prende sopra i 1.500? Sì. E poi gli chiede, su questi qua gli chiede, tu almeno, se tu non sei un impiegato che prende sopra i 1.500, sei almeno un magazziniere che prende sopra i 1.300? Non sei un magazziniere, quindi niente, stessa cosa su tutti, questo qua è verificato, e sui magazzini gli fa, sei un impiegato? No, non sei nemmeno un impiegato. Sei almeno un magazziniere che prende sopra i 1.300? Sì. Sei almeno un magazziniere che prende sopra i 1.300? Sì. Sei almeno un magazziniere? No. Sui commerciali invece sei almeno un commerciale? Sei almeno un impiegato? No. Sei almeno un magazziniere? No. E quindi li lascio fuori, va bene? Quindi qua è un or, ma per noi sarebbe un e, mi tiri fuori loro e loro, ok? Andiamo a fare mansione uguale magazziniere and stipendio maggiore di 1.300. Mettiamo un po' a capo tutta sta roba e facciamo così e facciamo così, ok? Quindi abbiamo detto che vogliamo o vogliamo tutte le persone che sono impiegati con stipendio di 1.500 o magazzineri con stipendio sopra 1.300. In questo caso vedete che essendo tra parentesi questo end vale solo per questo, ok? Quindi le parentesi circoscrivono la condizione oppure questa macro condizione. Andiamo a vedere. E ci arrivano, esattamente tra gli impiegati solo uno prende sopra 1.500 perché uno prende proprio 1.500 e quindi giusto. Tra i magazzineri sopra i 1.300 abbiamo effettivamente 1 e 2. Quindi questo è come possiamo combinare and or. Vogliamo mettere not? Va bene. Possiamo fare where not mansione impiegato, ok? Or oppure and, facciamo così, stipendio superiore, facciamolo semplice, superiore a 1.300. Quindi se noi guardiamo qua gli impiegati superiore ai 1.300 sono quasi tutti. Ok, anzi, mettiamo maggiore uguale perché in questo caso sopra i 1.300 ci sono tutti, giusto? A parte uno qua. Per il resto sono soprattutto maggiore uguale anche Marco Verdi potrebbe essere preso. Andiamo a vedere. Qual è il fatto? Che non viene preso nessun impiegato perché noi abbiamo detto not, non devi essere un impiegato e devi guadagnare più di 1.300. Quindi andiamo a vedere. Gli impiegati sono esclusi a prescindere. Per quanto riguarda invece gli altri viene escluso semplicemente un magazziniere perché non guadagna maggiore uguale di 1.300. Ok? E qui abbiamo combinato not e end. Va bene? Io direi che per oggi è veramente tutto. Siamo andati un pelo lunghini ma va bene perché abbiamo fatto qualcosa di importante. Abbiamo messo delle buone fondamenta per le nostre select. Io vi ringrazio e vi ricordo sotto in descrizione tutti i metodi abbonamenti o affiliate di Amazon per sostenere il canale e il gruppo di Telegram del canale. Vi ringrazio ancora e alla prossima. Ciao ciao!